Veramente, io credo che il popolo civile come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire, intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati. Tre pugni in faccia contro il direttore del TG4 Emilio Fede. È successo martedì sera in questo ristorante di Milano l'aggressore Gian Germano Giuliani, l'imprenditore noto per il famoso Amaro Giuliani. Il direttore del TG4 se la caverà con 15 giorni di prognosi e un divido che in questa edizione del TG4 di ieri è stato coperto dal trucco.